Notte di furti nel Cilento, i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania sono tuttora impegnati nella ricerca dei malviventi. La scorsa notte diversi gli episodi che si sono verificati tra Pellare di Moio della Civitella e Gioe Cilento. Nel primo caso i ladri hanno preso di mira due bar della zona, sono entrati nei locali portando via alcuni tabacchi. La stessa banda, prima di arrivare a Pellare, a bordo di un'auto risultata rubata in provincia di Caserta, era stata a Gioe Cilento, dove aveva rubato una seconda auto. A bordo dei due mezzi i malviventi hanno così raggiunto Pellare, dove hanno messo a segno i due furti. Ma intercettati dai carabinieri della stazione di Stio Cilento hanno abbandonato sia l'Audi che l'altra auto all'altezza di Campora. Quando sono stati fermati dai carabinieri, sono scelti dalle due auto facendo perdere le proprie tracce. In pochi minuti si sono dileguati tra le montagne. I militari della Compagnia di Vallo della Lucania, gli ordini del capitano Alessandro Starace, sono tuttora impegnati nelle ricerche. Poste di blocco sono stati immediatamente disposti su tutto il territorio cilentano. A supporto dei militari, sin dalle prime ore di questa mattina, anche un elicottero giunto da Salerno. I furti a Pellare sono stati messi a segno tra le due e le quattro di questa notte. I malviventi sono entrati prima nel bar Santa Caterina e poi nel bar Diamante. Nel primo caso hanno utilizzato una finestra per entrare all'interno del bar e mettere a segno il colpo. Nel secondo caso hanno invece rotto la catena posta sulla porta d'ingresso. Ad accorgersi dei furti e a far scattare l'allarme, la titolare del bar Santa Caterina, quando intorno alle 4.30 di questa mattina, ha riaperto l'attività commerciale.